C'è un nuovo asilo nido in città, è nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes ed è stato allestito in tempi record per sopperire ai lavori di ristrutturazione di due nidi comunali. È un momento bello di festa, di gioia, perché di fronte a un'emergenza che i servizi, che il Comune assicura alle famiglie, c'è stata una domanda, la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes ha dato una risposta, sostenuta anche dalla Diocesi, oltre che dal Comune e dalla Fondazione, che ha garantito a 24 bambini di avere uno spazio di accoglienza e uno spazio di proposta per la loro crescita. Il nido è già operativo da settembre. Il fatto di trovarci qui è condividere la gioia di aver lavorato in squadra, tutti insieme, per arrivare a questo risultato che è appunto una sezione in più in questo luogo, o meglio, una sezione da zero che prima non c'era di nido, ma che ci aiuta con i due nidi che abbiamo in ristrutturazione, è qualcosa di molto importante e credo che si sia arrivati ad un risultato di eccellenza. Un anno fa eravamo in Comune di Ferriere a inaugurare un asilo nido a fianco dell'amministrazione comunale. Oggi siamo qui a Piacenza a inaugurare un altro asilo nido, a dimostrazione che la Fondazione di Piacenza e Visevano è al fianco di tutti i sindaci che vogliono investire in questo servizio preziosissimo a domanda individuale. La Fondazione, nel suo piano triennale, ha messo al primo posto il servizio ai bambini, ai giovani e quindi pensiamo di aver fatto un buon servizio erogando un contributo significativo in questo ambiente. Soddisfatti anche i genitori dei bimbi. Il Comune si è impegnato anche per mantenerci gli stessi insegnanti, gli stessi ausiliari e ha esaudito tutte le nostre richieste. È un nido meraviglioso, gli insegnanti sono perfetti e è proprio un bel posto.